Ciao a tutti, sono Luca di Cifo Edizioni, volevo invitarvi alla presentazione dei due nostri nuovi libri, Via delle case dipinte di Beatrice Morroi e Le avventure di Peppe Senza Suola Ballarò di Alberto Nicolino e Igor Scalisi Palminteri. Saranno entrambe le presentazioni giovedì 7 a una marina di libri, il primo quello di Beatrice Morroi alle ore 18, il secondo alle ore 19 e 30. Sentite un po' di confusione perché sono in tipografia, perché sono in tipografia? Perché non abbiamo ancora materialmente i libri in mano, quindi per farveli vedere sono venuto qui, in tipografia, dove li stanno ancora stampando e assemblando. Ecco a voi i nostri libri. Di Beatrice Morroi, Via delle case dipinte, verrà presentata una marina di libri giovedì 7 giugno alle ore 18. Qua c'è ancora il libro, ecco la copertina, libro ancora tutto disassemblato ma mi hanno assicurato che per giovedì sarà pronto, speriamo. E poi invece qui accanto Le avventure di Peppe Senza Suola Ballarò di Alberto Nicolino e Igor Scalisi Palminteri. Guardate che belle immagini. Anche questo per giovedì 7 alle ore 19 sarà pronto. Ciao, vi aspettiamo!